Siamo al Palù di Livenza con i due direttori artistici di Hummus Park, Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi. Questa prima settimana di Hummus Park, prima di trasferirsi a Pordenone, è stata particolarmente impegnativa per via della pioggia. Devo dire che il problema non si pone perché comunque gli artisti sono abituati a lavorare sotto la pioggia e questo non ci preoccupava. Ci preoccupava forse un po' di più il fatto dei giovani non abituati, non hanno mollato un momento, pioggia o non pioggia, loro erano talmente entusiasti, talmente felici che non si sono accorti che pioveva. Abbiamo dovuto andare noi a dargli gli impermeabili e a dire copritevi ragazzi che vi prendete qualche cosa, grandi, grandissimi ragazzi. È sicuramente la grande magia dell'arte, ma perché il coinvolgimento degli studenti che ha caratterizzato Hummus Park sin dalla sua prima edizione per voi è così importante? È importante perché quello che noi speriamo di fare sono due cose fondamentalmente. Prima di tutto quello di passare le conoscenze degli esperti ai giovani. La seconda cosa che ci piace molto è quella di far crescere i ragazzi e portarli da una situazione di studenti a una situazione di artisti autonomi, perché vengono senza i loro professori di riferimento e quindi sono praticamente responsabilizzati nel progetto e nell'esecuzione dell'opera durante la quale esecuzione io e Vincenzo siamo ovviamente sempre pronti per aiutare, ma solo nella parte tecnica, mai con un consiglio meglio o peggio per quanto concerne il progetto che è assolutamente loro. Grazie. 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 Grazie.